Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa. E si dice la premiere decisamente sconcertata da Elena, detta Ellie Schlein. Quindi, su Rai 1... Scusate, ma c'è l'intelligenza artificiale che mi parla ogni tanto, si intromette. Comunque, Giorgia Meloni nel programma 5 minuti, che d'ora dura 5 minuti, ospite di Bruno Vespa su Rai 1. E dice così, la mattina mi diverto come una matta a leggere le ricostruzioni. Il riferimento a chi mette in discussione l'unità del governo. La speranza che la maggioranza crolli è una speranza dell'opposizione, ma non è una cosa reale. Poi, la Meloni parla del terzo mandato, bocciato questa mattina in commissione al Senato. Cioè, ieri mattina, spaccatura con la Lega, che ha votato a favore, e Fratelli d'Italia e Forza Italia, che hanno votato contro. La Meloni ha smentito le voci di una crisi interna al governo. Il terzo mandato non era inserito nel nostro programma. Non è una materia di iniziativa del governo, ma di iniziativa parlamentare. Ci sono state visioni diverse tra i partiti della maggioranza, ma in massima serietà. Ne abbiamo ampiamente discusso e non è una materia che crea problemi al governo. Cioè, visto che non era nel programma, i vari partiti, Meloni, Tajani e Salvini, hanno detto beh, siamo in disaccordo, facciamo decidere il Parlamento. Ognuno voti col suo partito come reputa giusto e poi come va, va. Ma questa non porta a una spaccatura o a chissà che cosa. Poi la Meloni ha parlato della riforma del premierato e dice che non c'entra niente il rischio di una deriva autoritaria. Noi, dice, vogliamo far governare chi è stato scelto dagli italiani. Diciamo basta inciuci, governi tecnici. E chi è antidemocratico saremmo noi? Vogliamo rimettere la democrazia nelle mani dei cittadini. I racconti della sinistra sono curiosi. E poi dice, questa riforma è una grandissima occasione. Quando arriverà il referendum, perché ci arriverà, visto che lo stanno osteggiando e la parola verrà data in mano agli italiani, noi avremmo un'occasione storica. Diranno che è un referendum sul governo, ma non è un voto su di me, è un voto su quello che succede dopo. La Meloni poi dice, si è detta favorevole al vincolo dei due mandati, ma aggiunge, credo, che la cosa più sensata sia trovare una regola che vale per tutti. Dice, in Italia abbiamo una sinistra che ha cercato il soccorso esterno, quando non regge il dibattito, che sia la Commissione europea o i commentatori. E poi, su Elena Dettaelli dice, sono rimasta molto colpita dal suo silenzio, sugli insulti e sui metodi di Vincenzo De Luca. Non vengano a farci la morale tutti i giorni, perché quando è stato chiesto a Schlein cosa ne pensava, lei ha risposto, ho già parlato di autonomia. Farò così anch'io. Gente che fa lezioni di morale e poi non si assume le responsabilità, non mi convince. Il riferimento, ovviamente, è a De Luca che l'ha apostrofata con un insulto e, fatta la domanda a Schlein dei giornalisti, ha cambiato discorso. Quindi, la Meloni dice, sono rimasta abbastanza colpita da questo silenzio, farò anch'io la stessa cosa. Quando succederà qualcosa di simile, anche noi faremmo silenzio, silenzio assoluto. Pan per focaccio, come si dice. Il silenzio come viene interpretato? Voi sapete che il silenzio è complice, il silenzio è assenso, il silenzio è un modo per sottolineare che quella cosa viene in fondo approvata da chi fa silenzio. Chi tace e acconsente, dice un detto popolare. I detti popolari radicano sempre in cose assolutamente vere. Quando si dice che chi tace e acconsente è un semplicissimo detto popolare verissimo. Chi tace e acconsente. il silenzio della Schlein lo dia la sinistra su questo caso di insulti, ma poi lo troviamo anche sui fantocci, fotografie, pupazzi bruciati dalla Meloni. E' gravissimo quello. Lo troviamo contro le offese fatte al direttore di orchestra a Venezia. Quindi, quando l'offesa è indirizzata verso un uomo o una donna di destra, a sinistra fanno silenzio. Perché, in fondo, se lo sono meritato, gli sta bene. Infatti, avete visto che, per quanto riguarda De Luca, in molti hanno cercato di giustificarlo. Sì, vabbè, ma la telecamera era nascosta, quello cosa ne sapeva? Sì, vabbè, ma la Meloni ha esagerato e quello ha risposto, si è fatto prendere un po' la mano, ma niente di particolare. Quindi, è andato in atto una sorta di giustificazionismo sinistro. Come dire, è la Meloni se le cerca, se le cerca gli insulti. Perché prima risponde così a De Luca, poi quello insulta, quindi lei se le cerca. Quindi la sinistra non mette sotto accusa l'insulto, perché per loro è giustificato. Quando loro insultano la destra, è giustificato storicamente, perché loro sono il bene che combattono il male, loro sono i buoni che combattono contro i cattivi. Loro sono i supereroi che combattono contro i Joker, contro l'entità oscura, contro Voldemort. Ecco, quindi loro si autoassolvono. Quando qualcuno insulta la destra, gli dicono, vabbè, insomma, questi se la cercano. Prima o poi uno gli scappa l'insulto, per come si comportano. Invece la Meloni, dall'altra parte, in maniera molto, molto educata e democratica, dice beh, mi ha stupito molto il silenzio di Ellis Line. Io direi che la Meloni non si debba più stupire di quello che dice, fa o pensa questo capo politico, perché diciamo che oggi la mia opinione è capo politico di fatto, però secondo me non è per nulla adeguata non solo a fare il capo politico, ma a fare neanche il politico. Grazie a tutti e arrivederci a presto.